ma cos'è questo posto? ragazzi è allucinante questo posto è assurdo incredibile mai visto una cosa così eccoci all'ultimo giorno in slovenia oggi ci è andato male col meteo è un po tutto coperto però il mood ne vischia diciamo fa più freddo del solito abbiamo lasciato l'appartamento è dispiaciuto molto bello super comodo ma torneremo sicuramente in estate ora ci aspetto una camminatina all'ultima cascata la seconda che vedremo Pernik vabbè la scriviamo esattamente non credo si dica così però la strada è chiusa si potrebbe arrivare più vicino ma quando inizia a nevicare la chiudono con la macchina in realtà sono una decina di minuti ma se ghiaccia in salita quindi vanno messi i ramponi quindi ora li abbiamo portati e vediamo se dobbiamo metterli a dopo no 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 Grazie a tutti. 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 Welcome to Ljubljana. Grazie a tutti. E oggi proviamo il burek, una sorta di pittor di vino, io e formaggio, favo di carne, proviamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.